Marie, tu hai citato una figura chiave nella vita di quest'uomo, che è Nonna Rosa. Sentiamo Papa Francesco cosa ha raccontato ai fedeli di Nonna Rosa. Sentite. Io ho avuto la grazia di crescere in una famiglia in cui la fede si viveva in modo semplice e concreto. Ma soprattutto è stata mia nonna, la mamma di mio padre, che ha segnato il mio cammino di fede. Era una donna che ci spiegava, ci parlava di Gesù, ci insegnava il catechismo. Ma ricordo sempre che i venerdì santi ci portava, alla sera, alla processione delle candelle. E alla fine di questa processione arrivava il Cristo giacente. E la nonna ci faceva, a noi bambini in ginocchiari, e ci diceva Guardi, è morto, ma domani reggiusita. Ho ricevuto il primo annunzio cristiano proprio di questa donna, della mia nonna. È bellissimo quello. Il primo annunzio in casa, con la famiglia. È la veglia di Pentecoste, 18 maggio 2013. La semplicità della fede di quest'uomo sta in queste parole.